Allarme randagismo all'ospedale San Giacomo d'Alto Passo di Licata. A segnalare l'inquietante fenomeno in un luogo dove la tutela degli utenti e delle condizioni igienico-sanitarie rappresentano una priorità fondamentale è il Nursing, il sindacato per le professioni infermieristiche, il cui segretario provinciale, il licatese Salvo Nicolosi, sottolinea l'aggravarsi della problematica in quanto i randaggi non si fermano alla portineria ma addirittura sono arrivati perfino ad entrare nel nosocomio nell'area in cui gli stessi operatori timbrano per iniziare la loro giornata lavorativa. Si tratta di un gruppo di cani di taglia media e grande che gironzolano ormai da parecchio tempo indisturbati nell'area ospedaliera, intimorendo l'utenza che si reca nella struttura sanitaria di Contrada Cannavecchia per le cure o per usufruire dei servizi offerti dal nosocomio. Da parecchi mesi questi branchi di cani si addentrano in ospedale, spiega Nicolosi, pertanto auspichiamo che il neo-insediato direttore sanitario provveda immediatamente per fare in modo che questi randaggi non restino a gironzolare tranquillamente per la struttura, intimorendo che vi si reca. Era impossibile che l'ex direttore sanitario del nosocomio Trigona, conclude il segretario provinciale del Nursind, non notasse l'inquietante ed evidente problematica che da parecchi mesi si registra, ma nessuna azione è stata posta in essere per la risoluzione della questione. Pertanto ci si auspica che il dottore Seminerio possa affrontare con urgenza la questione affinché si possa ridare serenità a chi vi si reca giornalmente per lavoro o per usufruire delle cure.